Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in blu Ragusa. V Seminario di Studi sul tema Comunità e Famiglia, Generatori di Fede, organizzato dall'Ufficio Catechistico della Diocesi di Ragusa e saranno presenti Monsignor Valentino Bulgarelli, Direttore Nazionale dell'Ufficio Catechistico, Rosmeri e Vito Di Leo, Direttori dell'Ufficio Pastorale Famigliare della CEI. Noi oggi ne parleremo con Don Marco Diara, Direttore dell'Ufficio Catechistico della Diocesi di Ragusa. Ciao Padre Marco! Ciao Denise! Durante il seminario si intende riflettere sul dono affidato ai genitori di introdurre i figli nel cammino dell'iniziazione cristiana e di vivere questo cammino in sintonia con tutta la comunità, che è appunto anche un insieme di famiglie. Mi ha colpito molto però la scelta della parola che troviamo nel sottotitolo, Generatori, e vorrei partire proprio da questa parola, ovvero dalle cosa significa essere generativi, che presuppone una precisa scelta di stare nel mondo e di vivere le relazioni con gli altri. Forse stiamo un po' perdendo questo valore in una società che ci chiede sempre di essere eccessivamente performanti e dove spesso diamo più importanza a valori come l'utilità e il funzionale. Noi come ufficio siamo in una fase, insieme anche a tutta l'equipe, di grande riflessione per quanto riguarda la catechesi, l'iniziazione cristiana ai nostri ragazzi e quindi anche in questo tempo di grandi cambiamenti. E quindi vogliamo riflettere noi principalmente, ma anche aiutare i nostri catechisti, educatori, capi scout, ad una riflessione che riguarda soprattutto essere generatori di fede. E quindi questo discorso che già parte per noi cristiani dal battessimo, perché i genitori quando chiedono il battessimo si impegnano ad essere loro, coloro che generano i figli nella fede, e quindi trasmettere questo dono stupendo che tutti abbiamo ricevuto, che è il dono della fede. E quindi sappiamo tutti che i genitori hanno una funzione fondamentale, non solo in quanto papà e mamma, ma in quanto anche educatori della fede. E quindi sono chiamati a generare nella fede, ecco, i propri figli, oltre a generarli in tanti modi, ecco, in questa società. Perché oggi purtroppo si è perso questo compito di generare nella fede, di generare dei valori, di aiutare i ragazzi veramente a trasmettere quello che hanno ricevuto dai loro genitori. Quindi questa trasmissione, ecco, un pochettino oggi non viene vissuta pienamente, quindi anche per valori che riguardano la società. Perché essere generatori non è soltanto generare figli, ma generare ogni giorno, ecco, attraverso l'educazione, che riguarda per noi cristiani la fede, ma anche per quanto riguarda tutti i valori per creare una società sempre più bella, più giusta e soprattutto fondata sul rispetto dell'altro. Certo, presuppone anche un'idea un po' diversa sul dare e ricevere, che è appunto vederlo come una dinamica aperta, dove c'è la gratuità. Infatti oggi quello che si è perso all'interno della società e quello che stiamo vivendo tutti è questa dimensione della gratuità. Ecco, c'è una forma di egoismo che ci porta a chiuderci sempre noi stessi e a non saper donare all'altro, perché tutti abbiamo ricevuto, iniziando già dal dono della vita, che è un dono meraviglioso, e quindi penso che dobbiamo essere educati a donare, ecco, tutto. Non solo perché è alla luce del Vangelo che ci insegna Gesù a donare tutto noi stessi, però ecco, la società oggi ha bisogno, ecco, di questa grande gratuità, di sapersi donare all'altro per aiutare l'altro a vivere la vita. E partirete da questa riflessione per arrivare poi anche a immaginare percorsi per accompagnare le famiglie e la comunità, che appunto la immaginate innanzitutto come una chiesa domestica vera e propria, appunto un insieme di famiglie, che insieme avvia questo cammina di formazione alla vita cristiana. E quindi bisogna anche un po' ripensare i percorsi di iniziazione alla vita cristiana. Sì, come dicevo all'inizio, siamo in questa grande fase di riflessione, non solo come ufficio, ma anche come diocesi, e quindi stiamo cercando di ripensare, di rivedere e con l'insezione cristiana oggi, alla luce anche delle famiglie di oggi, delle nostre comunità, di tutti i cambiamenti, dei cambiamenti dei ragazzi, di tutto quello che noi stiamo vivendo. Per questo abbiamo voluto come tema scegliere proprio comunità e famiglia, perché non soltanto ecco, la famiglia genera la fede, ma anche la comunità. Cioè alla base ci deve essere la comunità che deve accompagnare le famiglie, poi le comunità sono fatte di famiglie. E noi partiamo infatti anche dal numero 28 di Incontriamo Gesù, dove veramente sottolinea l'importanza della comunità che oggi è venuta meno, perché la responsabilità dell'iniziazione cristiana non è soltanto della famiglia o dei catechisti o del parroco, ma di tutta la comunità, cioè la comunità che educa. Perché la comunità cristiana è l'origine, il luogo, la meta della catechesi. Quindi questo seminario vuole aiutare a riflettere proprio sul ruolo importante della comunità, non solo per le celebrazioni o per altri eventi della parrocchia, ma soprattutto per contribuire all'iniziazione cristiana. E insieme alle famiglie, aiutare le famiglie di oggi, con tutte le difficoltà, le fragilità, con tutte le varie situazioni che oggi purtroppo le nostre famiglie vivono. E quindi la comunità ha questo grande ruolo di accompagnare, sostenere e allo stesso tempo trasmettere anche ai ragazzi. Ecco perché è importante già con il battesimo questo avviene, soprattutto il rito nel battesimo inizia con il benvenuto all'interno della comunità. Ecco quelle domande che rivolge il sacerdote alla famiglia, dove poi sottolinea è la comunità che accoglie, perché il bambino viene inserito all'interno della comunità. E questo deve essere oggi rivalutato. Dobbiamo riflettere su questa grande importanza, che c'è stato sempre, però è stato un po' messo quasi da parte. Invece è fondamentale che la comunità, insieme all'adulto, perché oggi dobbiamo recuperare l'adulto all'interno della nostra comunità, è l'adulto che deve dare testimonianza, è l'adulto che deve accompagnare non solo nella comunità ecclesiale, ma anche nella comunità sociale. E quindi i nostri ragazzi oggi purtroppo non hanno tanti modelli. E allora è riprendere l'adulto nel giusto modo, nel giusto ruolo. E quindi ecco perché è l'importante della comunità, insieme alla famiglia, che devono generare alla fede. Quindi il fulcro principale sarà la riflessione su come accompagnare e sostenere oggi le famiglie all'interno della Chiesa, rendendole protagoniste. Come si sta lavorando nella nostra diocesi? Noi già abbiamo fatto anche con i sacerdoti, e in quest'anno tre giornate proprio dove abbiamo riflettuto sull'iniziazione cristiana, poi anche a livello vicariale, cose varie, e così anche come equippe, insieme ai catechisti, abbiamo riflettuto. E ora, partendo da questo seminario, vogliamo veramente riflettere per creare degli orizzonti, per poi un giorno, se possibile, far nascere veramente un progetto per la nostra diocesi, dove dare delle indicazioni chiari per il percorso di iniziazione cristiana, quindi offrire strumenti validi per le comunità, per i catechisti, ma soprattutto anche per le famiglie. E quindi cercare di aiutare le famiglie ad essere protagoniste nel cammino dei figli, cioè non soltanto protagoniste solo quando c'è il sacramento, ma essere veramente presenti all'interno del cammino di iniziazione cristiana dei propri figli. Durante i giorni del seminario ci sarà Monsignor Valentino Bulgarelli e Rosmeri e Vito Di Leo, che saranno i relatori del seminario. Quale sarà il loro contributo specifico? Abbiamo chiesto al direttore nazionale, oltre perché lui ha una visione anche di tutta l'Italia, quindi un pochettino della catechesi di oggi, e quindi lui ci offrirà una riflessione che penso si muoverà su due livelli, strumentale e quindi orizzonte metodologico, e poi anche la finalità, l'identità di chiesa di oggi. E quindi un pochettino ci aiuterà a fare questa riflessione, quindi il cambio di mentalità, che è fondamentale, perché oggi se noi vogliamo avviare dei processi, è necessario cambio di mentalità, cioè prima del progetto dobbiamo cambiare noi, quindi cambiare noi sacerdoti, catechisti, la comunità e via dicendo. E quindi poi capire un pochettino i diversi modelli, ecco, di fede, di vita, di oggi e quindi cosa dare e via dicendo. Per quanto riguarda invece i direttori della pastorale familiare, perché visto che parliamo di famiglia, abbiamo chiesto a loro, a livello regionale hanno avviato dei progetti, e quindi ci presenteranno loro anche degli esempi di come coinvolge la famiglia oggi. E poi faremo un grande laboratorio e dal materiale di questo laboratorio diventerà per noi, equip, uno strumento su cui lavorare. Quindi vogliamo partire dalla base per poi cominciare a costruire insieme, visto che viviamo il cammino sinodale, per poter poi camminare insieme come diocesi, come comunità e come chiesa domestica. Padre Marco, ricordiamo che appunto il seminario di studi si svolgerà il 19 settembre e il 20 settembre dalle ore 19 alle ore 20 e 30 presso la parrocchia Maria Santissima Annunziata di Ragusa. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a te soprattutto per questa intervista e grazie a coloro che ci ascolta e a coloro che parteciperanno al seminario. Salute e ringrazio a tutti i radioscoltatori e le radioscoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arceri. Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea Un programma della redazione di Radio Caris in blu Ragusa Grazie a tutti i radioscoltatori 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 Grazie a tutti i radioscoltatori